Domani sera parte l'avventura della generazione vincente Napoli Basket nelle Final 8 Coppa Italia Frecciarossa 2024. Il team partenopeo affronterà nei quarti di finale in gara secca la capolista del campionato di Serie A Germani-Brescia. L'incontro, che si disputerà alle ore 20.45 alla Inalpi Arena di Torino, rappresenta un appuntamento molto importante per la Gevi, che ritrova il prestigioso palcoscenico delle Final 8 di Coppa Italia dopo un ben 17 anni. La vincente del quarto di finale tra Napoli e Brescia affronterà poi in semifinale chi la spunterà nel derby tra Segafredo Bologna e una Tels Reggio Calabria. In campionato, il Napoli Basket ha subito una sconfitta sia all'andata che al ritorno contro la Germani-Brescia. Servirà quindi un cambio di rotta per provare a battere la squadra lombarda, come confermato dalle parole del coach Igor Milicic. Abbiamo già affrontato Brescia in precedenza e non abbiamo avuto successo in nulla di ciò che avevamo proposto. La chiave sarà quindi provare a cambiare tutto. Per competere dovremo limitare il numero delle palle perse e di punti subiti in transizione. Brescia è molto brava da rimbalzo preso e da palla recuperata, a correre lungo il campo ed allargarlo per cercare il tiro da tre punti. Sarà quindi cruciale fare uno sforzo in più per limitare questo tipo di soluzioni. Dovremo essere bravi a cambiare tutte queste cose e per metterci nelle condizioni di provare a vincere questa partita.